I finanzieri del comando provinciale di Salerno hanno tratto in arresto un giovane di Agropoli per il reato di coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione conclusa nei giorni scorsi è stata condotta lungo il fiume Solofrone, nel comune di Agropoli, dove è stata scoperta la piantagione di cannabis. Nel corso di un pattugliamento della zona all'interno di un fondo agricolo privato, tra la fitta vegetazione di piante di mais, veniva notata un tubo per l'irrigazione lungo oltre 100 metri. Insospettiti dalla presenza del tubo di gomma, i finanzieri hanno fatto irruzione nel terreno, dove sono state scoperte 38 piante di marijuana in ottimo stato di maturazione, alte sino a 2 metri. Gli immediati approfondimenti permettevano di individuare il responsabile della coltivazione, un giovane agropolese con precedenti legati allo spaccio di droghe. La successiva immediata perquisizione dell'abitazione del responsabile, eseguita dalle fiamme gialle e bolitane, consentiva di rinvenire due manuali con le istruzioni d'uso relativa alla coltivazione di marijuana faidatie. Il trentenne, su disposizione della Procura della Repubblica di Salerno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Misura cautelare personale, poi confermata dal GIP in giudizio direttissimo, nell'attesa del rito abbreviato, previsto per settembre. Le piante sequestrate avrebbero permesso una produzione di almeno un chilo e mezzo di fioritura, pronta per essere fumata, con un giro di affari stimato di circa 20.000 euro, sottratto alle piazze di spaccio del Cilento.